Da qualche decennio assessori e delegati che passano da quell'ufficio la chiamano promozione del territorio. A giudicare dai risultati, se fossimo davanti a una commissione d'esame, la bocciatura dovrebbe essere solenne, se non per tutti per la quasi totalità di quelli che vengono chiamati e pagati lautamente a ricoprire quegli incarichi. Da tempo sentiamo ripetere la tiritera del Molise da scoprire, da tutelare, da esportare, una gamma di verbi all'infinito tra i quali immancabile primeggia valorizzare. Solo che una volta entrati in quegli uffici, dalla scrivania larga e con la poltrona comoda, assessori o delegati di turno, dopo aver snocciolato i proclami all'infinito, sgranano gli occhi e mostrano tutte le lacune di cui sono portatori, perdendosi nei meandri della promozione turistica e delle valorizzazioni enogastronomiche e culturali. Due esempi ultimi, perché ce ne sarebbero a Iosa, lampanti e illuminanti su come si può pubblicizzare una regione da scoprire senza ricorrere a inglesismi alla matriciana. Il primo è la trasmissione Unti e Bisunti andata in onda su D-Max, il cui titolo è già un proclama. Non è detto che cultura e turismo siano materia esclusiva per pseudo-intellettuali di ritorno. Non è sufficiente scimmiottare Filippo D'Averio per diventarlo. L'imitazione spesso finisce in macchietta, a volte è meglio sporcarsi le mani nella sugna che avere al collo la sciarpetta da regista o il papillon da critico d'arte. Il secondo esempio è la pagina online della CNN, che non ha certo bisogno di spiegazioni, almeno si spera, che ha dedicato un lungo e dettagliato articolo al Molise con tanto di foto e titolone su una regione piccola, dimenticata, ma nella quale si trova di tutto. Dai siti archeologici di un popolo che ha conteso la supremazia a Roma, ai paesaggi incontaminati dei piccoli borghi, al Caciocavallo e al Brodetto di Termoli. Come and see, ha risposto trionfante da Facebook il delegato alla cultura del Molise, ma non sempre tutti sono baciati dalla fortuna o dalla parentela, dunque olio di gomito per fare bene il proprio lavoro e meno commenti ai successi ottenuti per meriti che non sono propri. Il Molise per ora si scopre solo per caso le camminatrici del Piemonte di quest'estate insegnano anche dai social.